Dal 30 maggio al 2 giugno il Parco Scarpellini di Muraglia torna ad essere terreno fertile per l'economia circolare della Fiera Regionale del Riuso. La rassegna da nove anni ideata e promossa dalla Onlus Gulliver è pronta nuovamente ad allestire decine di stand dedicati agli oggetti usati, pronti ad entrare in un proficuo circolo virtuoso di riutilizzo. Con gli oggetti di ogni genere, da una lampada, un ferro da stiro, quello che comunque il cittadino pesarese può avere in una soffitta. È un modo di convivialità perché comunque qui le famiglie vengono e stanno con i bambini e anche i bambini possono fare il mercatino del riuso. Quindi anche loro dal Natale, non vi nascondo che preparano la loro borsa con tutti i giochi che non usano più e con la speranza di darli o di scambiarli con altri bambini e quindi vedere la novità ma più che altro fare gruppo. Ecco, il senso della Fiera del Riuso non è tanto comprare l'oggetto o scambiare l'oggetto ma è proprio il senso di stare insieme, di stare in pace tre giorni in un parco bellissimo come il parco Scarpellini. Non solo un mercato del riuso ma quattro giorni di costante intrattenimento, sport, spettacoli e approfondimenti dedicati alla riflessione. Presenza di scuole con i canti, conferenze, band, momenti di musica folcloristica. Avremo una commedia dialettale ma soprattutto faremo una sfilata con gli abiti del riuso. Cerchiamo di seminare e contagiare questo senso di volontariato che comunque oggi come oggi è fondamentale perché il volontariato non è perdita di tempo, anzi è guardare oltre il nostro orto perché i bisogni sono tanti e molte volte oltre che il bisogno materiale ci bisogna anche di un conforto, di una parola, di essere presenti nel momento del bisogno.